Salve ragazzi benvenuti al canale, oggi ragazzi di nuovo qui sulla splendida mappa Hot Baileron qui su Farling Simulator 22 Allora ragazzi siamo lasciati lo scorso episodio con la visione, la prima visione di quello che è il GPS, la GPS mode insomma In più ovviamente abbiamo dovuto anche seminare, seminare quello che era praticamente il mais sui nostri campi E poi in realtà che cosa avevamo visto ancora? Ma mi pare nient'altro, si la irrorazione va bene del campo a uva e l'allargamento del campo a uva, niente di che Allora mi vedete già le prese con una missione perché oggi voglio andare a fare un nuovo acquisto per quanto riguarda allevamenti Però per comprare l'allevamento che voglio mi servono una bellezza di 51.000€, io attualmente sono a 23.000€ Quindi cosa ho fatto? Intelligentemente dall'alto della mia sapienza, ho preso 3 missioni, due da 7.500€ e una che è questa qua da 11.000€ Che era, me ne sono accorto dopo in realtà, semina di patate Spero di poter fare abbastanza abbastanza in fretta, adesso quasi quasi mi metto un po' di GPS Anzi direi che prima mettiamo un po' di operaio così vi faccio vedere dove sono arrivato con i vari campi Ok vai operaio, allora con i campi sono arrivato raga praticamente qui, ho finito Ho finito tutto raga Così abbiamo tutti i nostri bei campetti seminati per l'appunto piantati in realtà a mais e pronti per la raccolta di non lo so quale mese Ma che poi andremo a fare eventualmente Poi raga, altra cosa che dobbiamo fare oltre a tutta sta mega lavorazioni diciamo così È quello di andare praticamente, ma dov'è il cassone quello lì autoload? Me lo sono completamente perso, ma perché io mi perdo la roba in sta farm? Praticamente a vendere quelli che sono, vediamo un po' se lo trovo mo Quelli che sono raga i nostri pallet, perché abbiamo un sacco di pallet di fragole da dover vendere Perché poi vi avevo detto che l'avrei venduto off camera ma poi alla fine non ho potuto più venderle E andiamo a vendere ste fragole, così ci facciamo altri due soldini Speriamo in questa puntata di riuscire ad arrivare almeno a 51.000 euro per poter prendere questo famosissimo allevamento Questo è l'obiettivo di questa puntata raga Oltre a questo non andiamo a fare altro perché se no diventerebbe poi troppo lunga Ok, belli carichi carichi di fertilizzante, vediamo un attimino dove dobbiamo andare Allora, campo 6 e campo 22 Ah no, il campo 22 però è un'irrorazione erbicida, niente Allora, campo 6 con la fertilizzazione Ok raga, siamo arrivati Allora, lasciamo il... come si chiama? Qualcosa del pallet al fendino E ci prendiamo l'irroratrice per andare a irrorare per l'appunto il campo Ok raga, e facciamolo andare Vediamo un attimino se si prende un attimino la strada Come dovrebbe, sì, penso di sì Qui stiamo procedendo bene, meno male Poi dovremo in teoria iniziare a fertilizzare una seconda volta in sto vigneto Non so se... boh, dovremo andare avanti il tempo Per il momento non so nulla Lasciamo perdere e andiamo a venderci Sti pomodori e poi tutte le fragole Che sinceramente non ne ho minimamente voglia Ma che dobbiamo fare se vogliamo effettivamente prendere La nuova stalla raga La nuova stalletta che vorrei prendere in questo nuovo episodio insomma Allora raga, non so come, non so perché Ma sono riuscito a caricare un sacco di pallet stavolta Allora, devo portarle al forno però Cosa che invece questi due è il negozio agricolo E allora no, devo raccogliermi ancora queste poche pallet di lattughe che ci sono Va magari Ok raga, in un qualche modo Sembra un carico dei Flintstones proprio questa cosa qua Ma... ma ci siamo insomma Io credo che non arriverà mai al punto di destinazione Però io sono abbastanza fiducioso nelle cose quindi Credo che ci arriverà, vai Ok raga, perfetto Allora ho già messo il Valtra a lavorare Adesso sto mettendo anche il John Deere Qui nella speranza che i cani si fermino con questo abbaio veramente fastidiosissimo E lasciamolo partire E in teoria qua dovremmo essere partiti con entrambe le elaborazioni Allora eccoci arrivati raga Vediamo di scaricare i nostri pallet qui Sempre al nostro bel negozio agricolo Vediamo un attimino quanto riusciamo a fare Non credo che questi se li prenderà Esatto, no Perfetto Abbiamo fatto 14.000 euro praticamente da tutti i pallet che abbiamo venduto Bom, comunque questo facciamolo ripartire nuovamente Va bene Qui stiamo procedendo bene Va bene Qua bene Va bene Qua bene Va bene Ok Ok raga Eccoci arrivati all'SR Allora vediamo un po' di raccogliere le nostre Ecco mi ricordavo infatti che dovevo scaricare sempre un po' a tratti Però in teoria dovremmo riuscire a farcela tranquillamente Ci vorrà un po' di tempo prima che possiamo recuperare il tutto Ma con calma faccio tutto quello che devo insomma Ok raga un bel pienone l'abbiamo fatto 4.800 litri di fragole le abbiamo Abbiamo ancora un bel po' di roba ma Non so non è che mi fido tanto a mettere a impostare il punto vendita eh Su ste serre perché non ho ancora ben capito come si A quanto lo vendono ste robe qui Comunque quanto siamo Beh 1200 litri dai 1200 litri dovrei raccoglierli in un attimo comunque Perché qua abbiamo già 4.800 quindi Ok E mandiamo l'operaio verso il forno così mi va a vendere le prime fragoline Qui abbiamo finito Mi sa che abbiamo finito neanche me ne ero accorto No 93% Che cos'è che ti manca Non ci credo Non riesco a vedere da dove si parte Da qua Ok Non ci credo raga ma queste missioni sono tutte mezze buggate Ma perché non arrivo mai alla fine della Porca miseria Allora fermi tutti Devo andare a vedere cos'è il pezzettino che manca In questo robo qua Ah tutta la parte di sopra praticamente Porca miseriaccia va Campo 22 terminato Chiudi E andiamo a restituire queste due Belle missioncine Allora raccogliere Raccogliere Perfetto Siamo a 45.000 euro Mancano precisamente 6.000 euro Allora nel frattempo è arrivato anche il mio bello peraieto Ah ma aspettate ma forse riusciamo a raccogliere questi 5.000 euro Forse dalle Dalle fragole Vediamo Forse non mi tocca neanche fare un prestito Allora vai di vendita Sblocchiamo il tutto E vendiamo Niente comunque raga Ho capito che Questo punto vendita è totalmente buggato eh Perché ogni volta per vendere Mi ci vuole veramente un sacco di tempo E Questa cosa veramente è fastidiosissima Vedete prodotti venduti 0 Adesso è completamente buggato il punto vendita Quando mi fa così No vabbè dai Andiamo al forno Andiamo al Come si chiama raga Negozio agricolo Perché se devo vedere queste cose Veramente mi viene solo che è nervoso Comunque saremo arrivati tranquillamente a Ehm A 5.000 euro Perché guardate 2.000 euro l'ha venduti da metà Saremo arrivati tranquillamente alla metà Boh nel frattempo che il Fendino va verso il Negozio agricolo A questo punto Niente questo lo riportiamo a lavorare Questo Questo ha bisogno di altre sementi Vala Partiamo Vediamo un po' se si abbassa e funziona Ma certo che funziona Benissimo Sono molto soddisfatto di questo Lavoro che stiamo facendo Anche perché Alla fin dei conti Nonostante sia una Missione Almeno abbiamo anche visto Per la prima volta La semina La texture del seminato Delle patate Eccetera eccetera Insomma eh Su tutte cose che comunque vi Faccio vedere Anche se sono missioni E mi piace farvi vedere Allora Vendiamo Vedete qua vende tranquillamente La non so perché Ci sono cose che non vanno proprio Proprio bene Va bene 45.000 Ecco La scusa è che stiamo comprando Nuovamente semi Raga Scende di nuovo Scende di nuovo Non riusciamo mai Arrivare al punto Che voglio arrivare Allora eccoci Arrivati Posiamo ovviamente Il nostro bello Spandi Fertilizzante Allora la stalla Che ho pensato Di comprare Allora facciamo così 60.000 euro Dovrebbero bastare La stalla Che ho pensato Di comprare Praticamente raga È la stalla Delle pecore Questa qua Da 51.000 euro Già l'avevo viste Un po' Quindi i prezzi Me li ricordavo Più o meno Però sono più tentato Di prendere Diciamo quella Delle Delle pecore Insomma anche perché Abbiamo già visto Cavalli e mucche Le galline Le api Le abbiamo visto Rimangono suini E pecore Però i suini Sono un po' Troppo impegnativi Momentaneamente Quindi Direi che andiamo Andiamo assolutamente Di Come si chiama Di pecore E il punto In cui volevo metterla Era appunto Il punto Che avete appena visto Questo punto qua Lasciamo giustamente Un po' Di spazio Magari facciamo così E facciamo così Raga Ok Così almeno Qui risulta un po' Più chiuso E da qua Raga Praticamente Ve lo faccio vedere Col trattore stesso Così vi faccio vedere Che tutto è Nella norma In teoria Non so se con un trattore Troppo alto Riusciamo a passare In realtà Ecco ad esempio Con un trattore così alto Probabilmente non passiamo Ma è dato dal fatto Che c'è questa Forte pendenza Però con un trattorino Un po' più basso In teoria dovremo Tranquillamente Passarci Andiamo a prendere Quelle raga E Però le andiamo a prendere Al mercante di vestiame Questa volta Sta venendo carina La farm Devo dire Sono tutto sommato Soddisfatto Stiamo iniziando a chiudere Quelli che sono I vari punti Di accesso alla farm Giusto da tenere Quelli principali E basta Insomma L'unica cosa È che sicuramente Le pecore Avranno bisogno Di erba O prendere un campo O Eventualmente Che l'idea Sarebbe forse La migliore Andare Nonostante Che ho già Seminato Andare a Eliminare Sto mais E andare a Seminarci Sopra L'erba Credo che Questa sia L'unica Idea Applausibile Solo che Poi ci rimarebbero Solo due campi O a fare a metà Quindi metà Lo teniamo Coltivato E metà Lo teniamo Ad erba Ci devo un attimo Pensare Raga Comunque questa Sarebbe l'idea Più che magari Andare a Comprare un nuovo campo Che momentaneamente Non possiamo permetterci Invece Adare a Ad arieggiare Metà del campo E andare a Renderlo ad erba E' una cosa Che si può fare Tranquillamente Man mano Col tempo Poi Il campo 40 Diventerà Sempre più ad erba Adesso è solo metà Poi diventerà Tutto intero Ok Questa è l'idea Raga Ok raga Allora Ho fatto il Come si chiama Il punto Per la gps Adesso guardiamo Più o meno La metà Del campo Che io credo sia Tranquillamente Questa qua Va bene Questa striscia qua Dai Questa linea qua E facciamo Alt X Così avviamo La guida Automatica Abbassiamo Magari Senza andare Nella Visuale interna E Tracciamo Questa Benedettissima Riga Che servirà Questa traccia Insomma Che servirà Raga Proprio per andare A dividere Il campo ad erba Si dai Più o meno Siamo a metà Il campo ad erba Dal campo coltivabile Mi dispiace Solo il fatto Che abbiamo Sprecato Effettivamente Semi A mais Però non ho Il tempo Di poter aspettare La crescita Del mais Perché poi Tra che cresce Tra che divido Il campo Tra che faccio Qui Tra che faccio Là Allora Dato che qua Non è ancora Cresciuto nulla Mi conviene Fare così Raga E buonanotte Così almeno Sian tranquilli Insomma Adesso Tempo di finire Un attimino Il campo Iniziare magari La semina Vediamo anche Un attimino Quanto consuma Vediamo se Questa seminatrice Che abbiamo Su sta mappa È buggata Come quella Della Erlinger Oppure no E poi direi Che comunque Possiamo anche Salutarci Tanto abbiamo Già visto Un sacco Di cose Allora Ho iniziato Qua su sto campo Raga Credo che però Questo campo A questo punto Lo finirò Off camera Perché voglio andare Un attimino A vedere Perché ho visto Che l'operaio Allora Intanto qua Vabbè Qua penso Che finiremo Comunque Off camera Qua va bene Finirò Anche qui Off camera Eh Dovrò finire Un po' di roba Off camera Raga Perché sono Lavorazioni Comunque lunghe Quindi Ci sta Che non riesco A finirle tutte Penso che La Eccolo là Il punto di vendita Di acquisto Voglio dire Degli animali È questo qua Quindi Andiamo ad acquistare I primi Animaletti Allora Finestra animali Abbiamo detto Questa pecora Qua Prendiamo quella Neonata Proprio L'agnellino Mi pare che si chiami No? Il piccolo della pecora Se non mi sbaglio L'agnellino E selezioniamo E ne prendiamo Il massimo Del cassone Ce ne stanno Dieci Mi pare che All'interno Ce ne stiano Quarantacinque Se non voglio Dire una cavolata E le paghiamo Duemila Va bene Compra Sì Ok Andiamo verso casa Raga Così iniziamo A stoccare Tutte le Le nostre Pecorelle Vediamo se poi Serviranno Serviranno Altre pecore Oppure no Insomma Intanto finisco qua Nel frattempo Che lui torna indietro Ok raga Ho completato Un'altra Tre striscioline Nel frattempo Visto che L'operaio Delle pecore È arrivato Quindi direi Che possiamo andare A questo punto Fermo tutto qua Raga Qua lascio continuare Tranquillamente E qua poi Vabbè Finire off camera E no Mi sembrava Che fosse arrivato In realtà Sì è arrivato Eccolo là Ok Eccoci arrivati In farm Allora Questo è Il punto Di spawn Del Di scarico Voglio dire Delle nostre belle Pecore Che facciamo Seleziona E sposta Nell'allevamento Ah 25 pecore Non 45 Scusate Quindi in realtà Potremmo prenderne Altre 5 Però a questo punto Me le vado a prendere Direttamente da qua Facciamo un pieno E buon Anzi in realtà Le lasciamo Queste 5 Va Così almeno Vediamo se si poi Riproducono Eventualmente Non lo so Penso che si riprodurranno Sì Riproduzione Età 8 mesi Ok Così appena vedo Che iniziano a riprodursi Vuol dire che Sono entrati In età adulta Queste sono le nostre Belle pecorelle Veramente Molto carine Ma poi sono così Piccole Guardate che piccolette Che sono Sono proprio Carinissime Proprio carinissime Veramente Va bene Raga dai Comunque detto ciò Direi che per questo episodio Possiamo anche fermarci qua Perché abbiamo visto Comunque un sacco Di cose davvero Molto interessanti Vedremo poi Nel prossimo episodio Di dare da mangiare Queste Benedettissime pecore Speriamo di Potergli dare qualcosa Di un po' più sostanzioso Dell'aria In questo In questo momento Detto ciò Raga Ovviamente Vi ricordo che In descrizione Come sempre Potete trovare Tutti i miei link Utili Compreso anche Un link Che vi permette Di comprare questo Ma anche Tanti altri giochi scontati Detto ciò Raga Vi chiedo di lasciare Tanti tanti bei like Per questo nuovissimo Episodio Qui della mappa Hot Bailerion E ovviamente Se vi piacciono Le pecore Non potete far altro Che lasciare un bel like Detto ciò Raga Vi mando un grosso saluto E ovviamente Ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.